Buongiorno ragazzi, stamattina sono pronta per iniziare la stagione con una special stage e faremo un giro veramente veramente bello adesso scaldo la macchina e poi parto bisogna ditemi seguite? non lo so iscrizioni fatte, momento di panico, troppa, troppissima gente e adesso colazione e poi visita guidata alla Dallara e lui ovviamente dice, chiama Ferrari, piuttosto ci vanno anche a guidata alla Dallara in Ferrari e lui dice di essersi appassionato, di aver preso la malattia delle frecce Rod Luca alla mano, adesso si parte e vado al mio primo punto fotografico grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.